La stella vuol dire 10 campionati vinti, ma anche vincere la Serie B è vincere un campionato, quindi bisogna far festa. Un campionato poi, il Milan che torna in ane sa qualcosa, è difficile e duro sino alla fine. Guardate il Monza di oggi, spacciato e retrocesso, ma per niente disposto a fare la parte del servo in commedia. Il Milan ha giocato con un solo schema, a fondo sulla destra e cross, qui hanno sbagliato in due. Poi invece, ecco qua qualche cosa di meglio, Novellino, De Vecchi, Maldera, è fuori. E infine la rete, ancora sulla destra, angolo, Buriani, De Vecchi, Tassotti che tira e Novellino che fa col tacco il gioco. Sempre dalla destra, prodezza di Carotti. Guardate il ragazzo, due pollonetti, uno, due, ancora a Antonelli, ma il cannoniere è scannonato oggi. Si diceva del Monza, ecco cosa fa Tatti, ecco come risponde Piotti. Secondo tempo, ancora Carotti va ad impegnare Marconcini. Però tocca a Piotti di salvare la vittoria e la festa, deviando su Massaro. I tifosi in agguato, il fischio dell'arbitro, la fuga, tutti felici e contenti, il Milan torna in Serie A.